Una volta trasferito a Dubai ed acquisita la residenza fiscale, nessuna delle plusvalenze da cessione di criptovaluta sarà soggetta a tassazione. Non sono tassati naturalmente neanche gli interessi da staking, né il maining, né i ricavi delle liquidity pool, né altre rendite legate al mondo cripto. Anzi, a ben vedere i soggetti che esercitano attività economiche connesse con le criptovalute, oltre a non essere tassati, in alcuni casi, possono accedere a incentivi oltre che ad altri trattamenti di favore, in virtù delle più recenti normative locali, volte ad incentivare l'innovazione. Se sei un criptoimprenditore, ad esempio, vale la pena tenersi aggiornati sulle prossime iniziative del Dubai World Trade Center, che sulla base di recentissime notizie, è destinato a diventare uno speciale crypto hub, che si impegnerà ulteriormente per creare un ambiente attraente per il settore. Non a caso, nel dicembre 2021, lo stesso Binance ha sottoscritto un accordo col Dubai World Trade Center. Se necessiti di una consulenza specifica puoi contattarci ai recapiti che trovi nella descrizione.